Rieccoci una buona domenica sera a tutti 6.46 ruota di Roma che peccato prima 60 poi l'81 e poi ci ha tratti in inganno per cambiare la condizione molti di voi l'hanno rigiocata perché non si sono fidati di quello che ho fatto e avete fatto bene perché in teoria le condizioni andrebbero continuate dai 6, 7, 9 colpi il sottoscritto lo dice sempre ma vedendo uno sconforto come prima 60 all'81 di conseguenza me lo dico mea culpa perché c'è stata la condizione nuova che ho dato ok ma il 6.46 è arrivato 6.46 vertibile e parte finale come vi dicevo pensate voi se usciva l'81 o il 60 con quei due abbinamenti c'era il terno in quartina peccato è andata così ieri sera infatti quadro estrazionale 6.46 nel frattempo è uscita una nuova condizione 10.44 Milano 10.44 Torino non tartassatemi nel cellulare perché non vi risponderò ve lo dico già adesso fatevi la vostra operazione se non sapete come viene fatta che siete nuovi vi lascio il link nella descrizione e come primo messaggio qui sotto come messaggio poi andrete a rivedere il video dove spiego la condizione che ha dato questa condizione perché attenzione non c'è l'ambo base avete visto perché il 6.81 è andato a ramengo il 60.81 sono andato a ramengo ma sono arrivati come vi dicevo vertibile e parte finale dell'ambo va bene che ho sbagliato ancora una volta però avete visto che 6.46 è arrivato quindi questa è un'altra soluzione al di fuori dell'ambo base il 60.81 adesso c'è la condizione 10.44 10.44 sono messi in ordine perché c'è 10 davanti 44 10 davanti 44 Torino Milano dovreste fare con facilità questa operazione sorvoliamo momentaneamente la condizione andiamo a vedere gli scontrini perché sono arrivati complimenti bravi bravi ma tanti di voi addirittura mi state dicendo qua nei messaggi che non avete visto mai con il video della condizione della condizione nuova col dato su Bari e Venezia siete rimasti all'ultimo video dove spiegavo ancora questa situazione meno male buon per voi perché gli scontrini sono tantissimi sono rimasto di stucco vedete qua il solito sistema lasciate lambata e poi i vertibili oppure la parte finale vedete lambata 81 lambata 60 ma avete impiantato nel vostro sistema i due numeri 6.46 che sono quelli che poi vanno a formulare un'altra previsione di risalto di integrazione perché 6.46 vi ripeto è dato dal 6 vertibili del 60 e 46 parte finale dell'ambo bravissimi bravissimi siete più bravi di me ormai guardate quanti scontrini sono arrivati avete fatto bene continuate così adesso 7.70 Bari e Venezia 70 dedicato con i suoi abbinamenti per la ruota di Venezia ce ne sono ancora tanti che stanno arrivando non mi dilungo vediamo un attimino allora la condizione che c'è stata quindi 6.46 lambo in quartina che peccato bastava che lasciavo la condizione ancora ieri sera e usciva a 6.46 un'altra vittoria sarebbe stata di massa perché è vero che stanno arrivando gli scontrini ma è stata un po di nuovo come vi posso dire tagliata fuori perché ho messo la nuova condizione e quanti qualcuno di voi me l'ha detto quanti me l'ha detto però attenzione se io non vi facevo vedere questo accorgimento manco prendevate quel 6.46 per cui per così dire mi sono salvato in corner quindi 6.46 vertibile 6.46 parte finale dell'ambo perché se usciva solo 60.81 la condizione praticamente non la giocava nessuno e invece 6.46 ha dato una possibilità di coloro che credevano in questa condizione di portarsi a casa qualcosina nella prossima condizione che c'è già fate quello che vi ho detto fatevi l'operazione poi fate la parte finale rivediamo un attimino il quadro estrazionale quindi questo 44 che è la parte finale dell'ambo lo integrerete con le ambate quindi qua arriveranno due ambate giusto quindi prenderete la parte quindi questa finale poi l'ambata primaria l'ha lasciata così com'è la seconda ambata che serve per l'abbinamento gli fate il vertibile fate la quartina vi ho già detto tutto allora condizione del 7.70 questa è una bellissima condizione questa è una bellissima condizione 7.70 ambo e ambetto bari venezia ma vi ripeto il 70 con questi abbinamenti vedrete che la 7.70 andrà a colpire con la ventina prima di passare poi al resto volevo farvi vedere un'altra bellissima cosa che questa è ragazzi l'ambata contata non ce n'è per nessuno questo è l'esito dell'amico Jacopo che guardate peccato che non ha messo il 22 perché aveva come ambata il 29 ma non ha pensato di mettere il 22 guardate qua 29 che va a venezia e bari quindi ma c'era anche il 22 quindi 5 10 15 20 e quindi 21 22 venezia 5 10 15 20 22 quindi 5 10 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 pensate che il 29 arrivava proprio a fine corsa a bari in quarta posizione guardate come è precisa l'ambata contata il 29 di Napoli terminava proprio la sua corsa nel quarto estratto di bari e quindi il nostro amico Jacopo si porta a casa dei ben soldini ecco qua questa è un'ambata sola guardate che bello guardate due posizioni perché l'otto più più dava la quarta e la quinta posizione addirittura la quarta la dava proprio elevata peccato quarta e quinta posizione ok ma c'era anche il numero 22 vertibile del 29 quando dico sempre di fare l'ambata il vertibile il vertibile l'ambo e l'ambetto non mi sbaglio quindi rivediamo il procedimento 29 22 5 10 15 20 25 26 27 28 e 29 29 il 22 si ferma a Venezia guardate cosa ci ha messo 1 un colpo solo un colpo solo 29 a fine corsa quarta posizione 22 vertibile ma se noi andiamo avanti con altri numeri tutti sono andati a segno o sono lì pronti a ritornare nelle medesime ruote quindi attenzione allora noi invece esamineremo questa volta la condizione ancora una volta lo faccio sempre per i nuovi cosa c'è a monte di questa condizione il 70 14 novembre guardate va Venezia e Bari 21 novembre se sia di nuovo il 70 che il 7 guardate cosa succede su Bari e Venezia il 7 di Torino di nuovo Venezia e Bari e poi 70 di nuovo del Palermo Venezia e Bari condizione fortissima quindi condizione che la prossima settimana si porterà avanti sicuramente non faremo come la condizione di ieri che si siamo fermati a 5 colpi come vedete sbaglio anche del sottoscritto però attenzione le previsioni come vi dicevo inutile lamentarsi è vero come avete fatto pressione cambiamola cambiamola io sono stato un po' anche io partecipe un po' delle vostre azioni però il sottoscritto doveva lasciarla e quindi c'è una colpa reciproca un po' da parte di tutti perché c'è stata anche pressione per questa cosa va bene per questa volta è andata così ma le condizioni dovrebbero essere portate come vi dicevo da un massimo di 6-7-9 colpi non c'è niente da fare se ci arriva prima nei primi 3-4 colpi bene basta la condizione si molla ma quando arriva poi una situazione del genere come quella di Antonio Longo avete visto che è arrivato al sesto colpo di gioco che fra l'altro non era neanche chissà quanti colpi che era da giocare quindi al sesto colpo è arrivata quella di Antonio Longo mi raccomando la condizione nuova 10-44 guardatevi bene tutto e e poi comunque mi raccomando vertibile della seconda ambata in più è la parte finale del primo Ambo che è il 44 vi ho detto tutto ok quindi la condizione per la settimana rimane questa 70 di Venezia con i suoi di nuovo lo ripeto 7-70 l'Ambo base di partenza e l'Ambetto condizione per il 90 di nuovo rimane sempre questa qui vediamo un attimino dove l'ho messo dove l'ho messo allora la condizione per il 90 eccola qui quindi questa ha fatto arrivare il Palermo siamo il 13 di ottobre guardate quanto tempo quindi questa anziché fare arrivare il Genova è arrivato su Palermo attenzione al Genova Milano e Napoli ve l'ho già detto alla condizione non ci dimentichiamo di questo perché vedrete che arriverà il 90 su uno di queste due ruote tre ruote sono addirittura due a tempo perché deve recuperare Roma di nuovo Milano Napoli e poi di nuovo Roma Milano Napoli guardate poi il Venezia Bari quello del Firenze e poi e poi quello di Palermo che va a Genova questa volta quindi condizione per la classifica che rimane tale quale Genova Milano Napoli e Venezia vi ho detto tutto condizione allora che si porta avanti 770 Mario Venezia e poi 70 con la ventina condizione del 90 si spera finalmente che sia la parte finale vedremo ci risentiamo da Marco c'è tutto stanno arrivando ancora i scontrini col 646 che vi devo dire ragazzi ci ha fregato ci ha fregato e di nuovo per la seconda volta come il 1780 vi ricordate su Venezia che poi era uscito subito dopo come ho dato la condizione nuova subito dopo è uscito che ma strano che succedono queste cose me la prendo a ridere ragazzi ma c'è da piangere davvero ci risentiamo da Marcus agli prossimi video ciao buona serata e ancora buona domenica sera